La giunta a Brucchi in questo fine settimana va in conclave, ha bisogno secondo il Partito Democratico di riflettere? Io non credo che possa abbassare un conclave per rimettere in ordine gli equilibri politici che gestisce l'attività amministrativa del Comune di Teramo. Questa giunta nei primi sei mesi, diciamo così, ha dimostrato tutta la sua incapacità e incongruenza e ritengo che possa essere anche eliminata. C'è o non c'è, non fa differenza. Non hanno dato assolutamente nessun genere di risposte né siamo riusciti a vedere qual è la programmazione politica per ridare un'amministrazione diversa alla città di Teramo. Anzi abbiamo visto solamente una litigiosità, cioè la mancanza di equilibrio e di coordinamento tra di loro. Loro non rispondono assolutamente al sindaco, ma gli assessori rispondono ai loro capi bastoni che mantengono questa amministrazione, so perché vi è una mera ripartizione di potere. Brucchi dunque, secondo lei, ostaggio di Gatti e Tancredi? Che lo era, si vedeva già delle elezioni amministrative. D'altronde Maurizio Brucchi non ha avuto un consenso personale. Il consenso che ne è derivato dalla vittoria è di peso solo ed esclusivamente dalle liste che lo sostenevano, le quali liste facevano già riferimento agli ex assessori e presidenti regionali. Quindi parliamo delle tre anime che ha il centro-destra e che è quella che fa riferimento a Paolo Gatti, l'altra che fa riferimento a Tancredi ed infine una piccola parte che fa riferimento a Maurizio Dalmazio. L'aver perso punti di riferimento in provincia, ma soprattutto in regione, è stato pagato a caro prezzo, secondo lei, dall'Aggiunta Brucchi? Teramo nell'ultimo mandato ha avuto un presidente e quattro assessori regionali che gestivano un 80% del bilancio, che comunque non sono riusciti a dare risposta alcuna al territorio e oggi paga la mancanza di questa copertura politica e l'arroccamento del centro-destra sulla città di Teramo e il loro logoramento dopo un'incapacità amministrativa e dopo aver gestito tanto e non aver dato nulla alla città di Teramo e la consapevolezza che i cittadini oggi hanno di questo. Se lei fosse nei panni di Brucchi cosa farebbe? Andrebbe avanti? Sicuramente ridurrei l'Aggiunta, dando un segnale del fatto che non vi è più denaro e che non si può chiedere solo sacrifici ai cittadini.